ciao ciao a tutti e bentornati sul mio sbrillucicoso canale ed eccoci qua di nuovo col calderone e il calderone di halloween di perlina e fimo e un co ne avevo già parlato domenica avevo detto che vi avrei fatto un altro video per ricordarvi la seconda uscita analisa deciso di dividere le uscite in due tranche quindi domenica è uscita la prima parte di calderone e stasera uscirà alla seconda e ultima parte quindi se vi siete persi la prima ondata non perdetevi assolutamente la seconda perché poi appunto non ci sarà più nessuna possibilità di avere questi fantastici calderoni di halloween usciranno questa sera alle 20 io metterò il video online magari un'oretta prima in modo che comunque possiate vedere il video e prepararvi poi per le vendi quando saranno messi online e vi lascerò come di consueto il link qui sotto come avevo promesso oggi vi facevo vedere qualcosa in più quindi vediamo intanto l'adesivo attenzione contiene materiale pericolosamente creativo e ora ve lo apro però ovviamente non guarderemo niente perline o scherzetto ecco qua queste sono le bellissime bustine guardate che bella la grafica anche degli adesivi perline o scherzetto sono ben 10 bustine e in queste 10 bustine ci sono dentro delle meraviglie ovviamente analisa si è divertita anche a inserire qualche scherzetto ovviamente extra che fa parte del calderone ecco per appunto simboleggiare halloween perline o scherzetto quindi guardate che meraviglia appunto tutto a tema e immaginate cosa può essere all'interno di queste meravigliose bustine io vi posso solo garantire che ne vale assolutamente la pena è pesantissima questa questa scatola questo calderone amo di scatola e quindi assolutamente non perdetevelo poi venerdì in diretta se tutte quante avrete ricevuto il vostro calderone faremo lo spacchettamento quindi questo qua lo spacchetterò insieme a voi durante la diretta di venerdì dal sito dal magazzino del sito perine film e quindi insomma se per caso non l'avrete ancora ricevuto tutte non lo so adesso vedremo il da farsi magari lo aprirò in un video qua su youtube adesso vedremo in base alle consegne dei vostri calderoni bene ragazze io con questa ovviamente richiudo il mio calderone ecco qua siciliamo e vi do appuntamento a all'apertura che sarà appunto molto probabilmente venerdì durante la diretta vi lascerò ovviamente il link anche della pagina facebook dove ogni settimana si tengono le dirette dal magazzino di perline film con quindi detto questo non perdetevi assolutamente questo calderone e ci vediamo alla prossima ciao